io sto cercando di capire che opera è questa sono sul sito di Radio 3 e non riesco a vedere che opera è questa è possibile ascolta in diretta, ok, me lo dicono, me lo dicono e cos'è? no, ascolta in diretta clicco Radio 3 Suite, il cartellone, Teatro Sun Teatro, no, il cartellone Biennale Musica puntata precedente e io non vedo che opera è questa c'è un click, c'è un link? no, nessuno nessuno diretta Radio 3 e non ti dicono, è così navighiamo, navighiamo forse ha programmi? che cos'era questo? Radio 3 Suite, ok andiamo a cercare il Radio 3 Suite, dove si trova? sono in ordine alfabetico? è possibile che stanno dando un'opera in diretta e che non sai che cosa? solo a un page non c'è scritto che cosa? bene, quando c'è il podcast, lo streaming che viene a noi musica del vivo? 36, sarà oggi? no, 25 giugno 25 giugno no, non lo vedo, non lo vedo, nemmeno qui biennale musica dove aspetterei finisca no, non si riesce a capire questo e si continua tra gli applausi del teatro San Carlo di Napoli Fedora che è il secondo dei tre atti in cui si articola l'opera di Umberto Giordano, stesso di Arturo Colautti, la Fedora, 1898 e